novena a san giuseppe quarto giorno nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame ricordando il silenzio di san giuseppe che gli permise di ascoltare la voce di dio che gli parlava indirizzandolo sempre dovunque facciamo silenzio interiore pregando perché tutti sappiano nel silenzio accogliere la parola di dio e conoscere la sua volontà e i suoi disegni padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberarci dal male amen ave o maria piena di grazie il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen invocazioni san giuseppe il celso sposo di maria e padre davidico di gesù per il tesoro della sua perfettissima obbedienza a dio abbi pietà di me per la tua vita piena di meriti esaudiscimi per il tuo potentissimo nome aiutami per il tuo clementissimo cuore usami bontà per le tue sante lacrime abbi pietà delle lacrime mie per i tuoi dolori abbi pietà della mia sofferenza per le tue gioie consola il mio cuore san giuseppe ascoltami san giuseppe esaudiscimi san giuseppe abbi pietà di me da ogni male dell'anima e del corpo liberami da ogni pericolo e disgrazia salvami soccorrimi con la tua santa protezione e nella tua misericordia ottienimi dal signore quello che mi è necessario e particolarmente la grazia di cui ho bisogno gloria al padre al figlio e lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen gloria al padre al figlio e lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen gloria al padre al figlio e lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen Grazie a tutti.